330.000 tamponi processati dall'inizio della pandemia Covid-19, i tre quarti per l'intero Abruzzo, ad un ritmo di 4.500 al giorno. È una delle grandi sfide vinte dall'Istituto Zoprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise di Teramo, senza parlare poi della continua ricerca e sequenziamento del virus. Siamo passati da circa 300, 150, 300 tamponi al giorno a oltre 4.500 tamponi al giorno nel periodo di massima attività analitica della scorsa settimana. Oltre alla diagnosi di SARS-CoV-2, noi abbiamo processato, abbiamo sequenziato oltre 250 campioni, virus isolati e devo dire che non abbiamo riscontrato, almeno alla variante inglese, che proprio in questi giorni è oggetto di cronaca. C'è grande soddisfazione anche per i riconoscimenti nazionali e internazionali che l'IZS di Teramo ha ricevuto in questo ultimo anno, difficilissimo. In 2021 continueremo sicuramente a lavorare sul fronte Covid, tanta ricerca ma partiremo con dei nuovi progetti che ci hanno appena appaltato in quest'ultima settimana. Per esempio la raccolta di tutti i dati per delle zoonosi in Europa, siamo capofila di un gruppo, di una squadra molto importante dove c'è l'ISS, l'Istituto della Venezia di Brescia e l'ANSES francese e raccoglieremo tutti i dati che riguardano le malattie trasmesse dagli animali all'uomo per tutta Europa. E come buon augurio per il 2021 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise sceglie il rilancio attraverso un calendario di supereroi disegnato dal fumettista terramano della Marvel Carmine Di Giandomenico. Il calendario è nato appunto da questa intuizione e dopo varie discussioni con gli esperti che è stata una giornata affascinante, molto affascinante perché ti fa scoprire dei dettagli che uno delle volte non pensa e alla fine si è scelto di rappresentare l'Istituto di ZS in un mondo fantastico, una sorta di Nova Krypton in maniera che venga percepita in maniera molto più distesa anche dai più giovani diciamo e trasformare gli operatori di ZS come se fossero dei supereroi che possano combattere il virus oppure analizzare questi mondi fantastici che si sono creati all'interno del calendario. L'incontro tra cultura e scienza è una cosa che veramente ti fa capire l'importanza uno pensa alla non arte, di quando sia importante ha la stessa importanza della scienza, tutto è utile e quindi siamo contenti di aver fatto questo binomio.